Ciao ragazze, ciao ragazzi, allora oggi voglio fare un video chiacchiericcio in cui mi metto qua davanti alla videocamera non ho uno script, non ho niente di... bah vabbè che non ho mai script pronti parlerò direttamente con voi a quattro occhi come se parlassi un'amica di quello che mi viene in mente perché mi è capitato, ve l'avevo accennato questo, mi è capitato qualche giorno fa che una ragazza insomma mi fermasse per la strada, mi capita spesso ma lei mi diceva che mi ringraziava perché l'ho aiutata ad uscire da un periodo triste della sua vita e questo era un periodo brutto per un ragazzo insomma che la trattava male perché mi ha detto davvero molto cattivo e ovviamente non so esattamente che cosa fosse successo però mi ha colpito molto questa cosa e pochi giorni dopo ho visto altri due messaggi su Instagram Direct in cui c'erano appunto delle ragazze che mi chiedevano consiglio eccetera sempre su problemi di questo tipo e quindi visto che è un tema a me molto caro che sicuramente ho accennato in qualche video ma non credo di aver fatto un video dedicato proprio soltanto a problemi di questo tipo a problemi di fidanzati, ragazzi ma anche fidanzate e ragazze perché no che ti fanno stare male perché è un tema che ho molto a cuore perché è capitato anche a me scusate, ah no Gattodever ok, no pensavo volesse uscire perché Gattodever sta qua dietro a me forse riuscite a vederlo, sta proprio qua e Gattastellina invece sta ve la faccio vedere, ve la faccio vedere eccola, tadaaa che di solito non sta mai qua nel mio studio Gattastellina ma oggi si comunque e quindi si voglio dare i consigli che potrei dare a me stessa se potessi tornare indietro nel tempo e comunque consigli che darei a mia figlia che darei a una sorella più piccola perché mi dispiace che stiate male specialmente perché so molto molto bene quello che si prova perché ci sono passata anch'io così come ci sono passati tutti la prima cosa che voglio dire è appunto questa che capita ci siamo passati tutti che è capitato a tutti quindi non sentitevi sole io mi rivolgo al femminile perché mi viene detto al 90% delle volte questi messaggi e queste richieste di consiglio, di aiuto mi arrivano da ragazze quindi scusatemi se ci sarà anche qualche maschietto posso capire che può succedere ma molto spesso appunto sono le ragazze sono le donne che mi scrivono e molto spesso si tratta di ragazze che mi dicono il mio fidanzato, il mio ragazzo si comporta male oppure lo vedo distante ma non mi racconta le cose oppure continua ad ignorarmi è indifferente che cosa devo fare, che cosa devo fare io ci sto male, se lo lascio ci sto male però comunque sto anche male in questa situazione che cosa devo fare allora numero uno è che è una cosa che mi ha sempre detto anche la mia amica Demelza che è una persona molto molto saggia lei ha la mia età ma sembra che abbia 80 anni per quanto è saggia cioè sto parlando proprio 80 anni di cervello di testo ok perché lei è la persona più saggia che io conosca e quindi lei mi ha sempre detto quando io le chiedevo queste cose che cosa devo fare, che cosa devo fare dimmi che cosa lei mi rispondeva sempre nessuno può dirti quello che devi fare perché solo tu puoi prendere una decisione e la decisione che prendi sappi che sarà comunque quella giusta che cosa vuol dire? vuol dire che dovete rendervi conto da sole dovete capire da sole quando è il momento di uscire da una relazione che vi fa stare male vi dico però per consiglio personale se una relazione vi fa stare male dovete uscirne a priori senza se senza ma senza è un errore che facciamo molto noi in generale nella vita ma anche e soprattutto nelle relazioni un errore che ho fatto anch'io molto spesso in passato è stato pensare che cosa farò dopo che cosa succederà dopo ma se io lo lascio che cosa succede dopo allora quello che succederà dopo ci penserete dopo ok? la cosa importante è insomma quello che voglio dirvi è sostanzialmente senza girarci troppo attorno ragazze è che se qualcuno vi fa stare male nella vita se non avete ancora imparato dovete imparare a mandare a quel paese la getta che vi fa stare male non ci sono tanti giri di parole per dirvelo non c'è non lo infiocchetto e non non ve lo dico girandoci attorno dovete imparare c'è un ragazzo che vi fa stare male che è freddo che è cattivo dovete mandarlo a quel paese ragazze mi dispiace che molte di noi abbiano paura di stare sole è una cosa che è successa anche a me e vi garantisco che la paura di stare sole è più paura di una paura perché alla fine non sei mai solo non è che se non hai un fidanzato un ragazzo tu sei sola anche io nella mia relazione nelle mie relazioni passate avevo tanto paura di rimanere da sola e vi devo dire la verità e quando mi è capitato alla fine di rimanere da sola stavo benissimo cioè quindi ed io ero la persona più insicura continuo ad essere una persona insicura per molti versi ma quando mi sentivo così insicura la paura io avevo questa paura di restare sola e non capisco e non sapevo nemmeno perché avessi questa paura e alla fin fine avevo paura per niente per niente perché alla fine hai gli amici hai i genitori ma voglio dire non succede nulla non so se riesco a spiegarmi bene quello che vi voglio dire però se qualcuno sapete che non si comporta bene ecco la maggior parte dei messaggi mi dice il mio ragazzo mi ha fatto questo mi ha fatto questo mi ha fatto questo continua a farmi questo credo che mi stia tradendo non mi dice la verità oppure mi dice delle parole terribili per poi quando lo lascio scusarsi e io continuo a perdonarlo perché lui si scusa dice che mi dice che mi ama dice che mi vuole bene che gli dispiace tanto altra cosa se una persona si scusa vi dice che gli dispiace che vi vuole bene eccetera eccetera e qui sono sempre consigli miei ok non è la verità assoluta però io sono la prima a dire tutti sbagliamo è giusto dare una seconda chance a tutti il problema è quando quella chance diventa non una seconda chance ma diventa la chance numero 13.543 per farvi capire lo sapete che io però se me lo butto un po' sempre sul comico no ma è per farvi capire che certo che si può sbagliare una volta ma quando gli errori iniziano a diventare una cosa regolare in una relazione non sono più errori è semplicemente il modo di essere di quella persona ok anche io ho avuto relazioni in cui mi veniva fatto del male e non era del male fisico ma mi veniva fatto del male a parole a gesti e poi ogni volta mi arrivava il mazzo di rose rosse mi arrivava il mazzo di rose con tante scuse fino a quando passava un po' di tempo e si ricominciava appunto a capo tantissime redazioni sono fatte così ragazze però vi voglio dire che da queste redazioni è meglio uscire se in linea generale se avete un dubbio su una redazione se c'è il dubbio se continuarla o meno per quanto mi riguarda il consiglio che darei io a me stessa se vi viene il dubbio è meglio uscirne perché se una relazione va bene e siete felici non avete dubbi ve lo posso garantire e mi dispiace anche perché mi dispiace anche per me stessa perché non essendo uscita da una relazione prima avendo aspettato così tanto vabbè alla fine tutto va come deve andare ok però vi precludete anche altre storie da mole che magari sono più belle sono magari la storia giusta per voi se voi rimanete in una situazione in una relazione triste in una relazione che vi fa stare male vi precludete altre relazioni che possono magari essere invece positive insomma vi togliete la felicità da sole ragazze non mi piace quando cioè non è che non mi piace mi dispiace molto per le ragazze che temono di restare sole ma guardate che alla fine non c'è nulla non c'è nulla di così terribile in essere singola io mi ricordo che avevo tanta 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 paura di restare sola e poi quando sono rimasta sola vi devo dire la verità stavo da dio tant'è che quando che quando poi non avevo più paura di stare sola è lì che ho incontrato Tomas e mi ricordo che i primi tempi mi dicevo ma io sto benissimo da singola quindi povero quindi in realtà forse bisogna proprio vincere la paura di stare soli per trovare la persona giusta credo che molto spesso sia così quindi ragazze che mi scrivete dicendomi come si comporta il vostro fidanzato che è freddo che esce con gli amici che non vuole stare con voi anche qui non capisco tanti ragazzi che si comportano in questo modo ma penso che sia una un modo di comportarsi anche di tante ragazze non voglio dire però non capisco chi si comporta in questo modo perché voglio dire se stai con una persona ma continui ad evitarla perché preferisci uscire preferisci la vita da single praticamente rimani single abbi il coraggio di lasciare la persona però non tutti hanno il coraggio e non che ci sia niente di male ovviamente a voler uscire però mi arrivano tanti messaggi in cui mi viene detto ma il mio ragazzo esce ogni sera non so mai dov'è penso che mi tradisca non vuole vivere con me non mi presenta alla sua famiglia non mi presenta ai suoi amici nonostante stiamo insieme da 7-8 mesi un anno ecco tutte le ragazze che mi scrivono appunto l'unico consiglio che voglio dare è che se state male in una relazione ragazze bisogna imparare a mandare a quel paese la gente che ci fa stare male perché con gli anni ho imparato non voglio parlare da vecchia però con gli anni ho imparato che se non ci prendiamo cura noi di noi stesse non lo farà nessuno al posto nostro è chiaro che abbiamo le famiglie abbiamo gli amici tutti ci aiutano ma le prime cioè se cercate una mano che vi darà aiuto la trovate alla fine del vostro braccio questa è una frase che ho sentito non mi ricordo di chi dove l'ho sentita sicuramente su internet qualche aforisma però è la cosa più vera del mondo ragazzi dovete imparare a volervi bene dovete imparare ad essere le avvocatesse di voi stesse il vostro manager dovete essere voi dovete capire che dovete difendervi da sole ad un certo punto bisogna tirare fuori le unghie bisogna tirare fuori i denti superare tutto non ascoltare il cuore a volte per il vostro bene ed uscire da queste relazioni ovviamente sto parlando di relazioni in cui state male in cui nella maggior parte del tempo piangete state male e c'è solo una piccola piccola parte invece in cui state bene una piccola parte del tempo state bene ma se tre quarti del tempo che voi passate con questa persona o comunque nella vostra relazione se nella maggior parte del tempo non state bene è ovvio che la risposta può essere solo una cioè in un modo o nell'altro questa relazione dovete troncarla e penso a chi arriva addirittura a rimanere in una relazione di abuso fisico se ci pensate molte donne è chiaro che ovviamente io non posso adesso neanche pensare immaginare come ci si possa sentire eccetera molte donne hanno paura mi rendo conto cercano aiuto non lo trovano molto spesso anche succede che nonostante abbiano cercato aiuto purtroppo succeda il peggio e ovviamente nei miei video non voglio toccare questi argomenti perché non essendoci passata non mi posso permettere di pronunciarmi eccetera però c'è anche chi sopporta questi abusi per la paura di restare soli e questa secondo me è una cosa inconcepibile ragazze perché se vogliamo davvero essere femministe essere indipendenti al 100% non possiamo pensare di subire una vita di abusi che possano essere fisici che possano essere abusi psicologici abusi mentali che è una cosa che quando tu permetti al tuo partner di abusare di te e sto parlando anche appunto in senso psicologico si innesca un meccanismo che poi è difficile smettere e so bene che cosa vuol dire subire pregare la persona di non litigare di smetterla di non arrabbiarsi costantemente eccetera ma ragazze può succedere una volta può succedere due volte ma vi ripeto che se la cosa continua ad libitum dovete troncare voi e molto spesso dobbiamo essere forti se ci vogliamo bene e dobbiamo avere il coraggio di dire ok basta lasciate stare come sarà dopo come vi sentirete dopo non ha nessunissima importanza come vi sentirete dopo bisogna imparare a mandare a quel paese e sono in video altrimenti ve lo direi in qualche altro modo bisogna imparare a mandare a quel paese chi non ci merita e certo che sembra una frase fatta non mi meriti devo perché tu non mi meriti però è vero se tu sei una persona buona e vuoi stare in una relazione positiva in una relazione che ti fa crescere che ti rende felice perché alla fine le storie d'amore le relazioni devono farti sentire felice se no è meglio stare soli non vi pare e poi c'è un'altra cosa molto importante che avevo menzionato anche nel video in cui parlavo delle relazioni in generale siete voi credetemi siete voi che decidete che cosa accettate nella vita che cosa non accettate e che cosa significa significa che qualsiasi persona in questo caso ovviamente un fidanzato un ragazzo può permettersi di andare oltre il limite che voi decidete soltanto una volta nel senso che può farlo una volta dopodiché ciao ok e io sono arrivata a questo dopo anni e anni di sofferenze di pianti di occhi gonfi e di non riuscire ad aprire gli occhi per quanto piangevo ok però ragazze è così ragionateci un attimo su questa cosa se vi vengono fatte delle cose che voi non accettate non andate a pregare la persona di smetterla perché molto spesso al mondo ci sono e non voglio dire parolacce quindi sto cercando l'aggettivo giusto ci sono le persone cattive ok chiamiamole così anche se è molto semplificato cioè ci sono le persone cattive nella vita ok e a volte capita di incontrarle capita di essere in una relazione con una persona cattiva ma per quanto voi cerchiate di cambiarla quella persona sarà sempre una persona cattiva quindi l'unica cosa che potete fare per avere una storia positiva sana che vi rende felici è abbandonare la persona negativa cercare di cambiare una persona forse quello che facciamo molto spesso è cercare di cambiare gli atteggiamenti brutti delle persone non le persone in sé perché se siamo innamorati di qualcuno ci piace quella persona ma vogliamo cambiarne gli atteggiamenti e vi dico tranquillamente che non potete farlo non potete cambiare gli atteggiamenti di nessuno se vi viene fatto del male se vi viene fatto se vi tratta male il vostro ragazzo il vostro fidanzato se vi tratta male l'unica cosa che potete fare è dargli degli ultimatum e però siate chiare nel senso che se gli è dato un ultimatum poi non dovete tornare sui vostri passi altrimenti si sa che soltanto verrà presa da parte sua come un gioco e quindi inevitabile che succederà ancora perché tanto saprà che voi comunque tornerete sui vostri passi questo è un po' il mio consiglio dato un ultimatum vedete come si comporta ovviamente dipende tutto da quello che vi viene fatto ragazze non sto qui a dirvi date una seconda chance a chi vi mette le mani addosso ci mancherebbe altro punto non voglio entrare in quella specie di discorso perché penso che sia chiaro quello che penso nel senso che se vi viene alzato torto anche un capello ovviamente scappate denunciate quanto più veloce possibile scappate denunciate tutto quanto alla polizia quello che però voglio dire è che se qualcuno si comporta male con voi il vostro finanzato si comporta male con voi vi dice delle cattiverie vi tratta male vi giudica vi dice che non valete niente che non siete belle eccetera eccetera sappiate che potete sì dargli un ultimatum potete e magari può anche servire nella maggior parte dei casi però vi dico che queste persone non cambiano queste persone sono così e non c'è niente che voi possiate fare e l'unica cosa che potete fare per uscirne per stare meglio è uscire da questa relazione altra cosa che vorrei farvi capire che una relazione ma anche un matrimonio una storia d'amore non è tutto quello che voi avete nella vita ok se avete dato spazio nella vostra vita soltanto alla vostra relazione state sbagliando non pensate che nel momento in cui una relazione finisca finisca il mondo in realtà se voi chiudete una brutta relazione una storia che vi fa stare male che vi fa che non vi rende felici non potete che andare in peggio perché comunque avete già toccato il fondo tra virgolette avete già sperimentato il dolore la tristezza quindi il tradimento e chi più ne ha più ne metta quindi se avete sperimentato tutto questo dovete pensare che o ci rimanete dentro e quindi sperate che questa persona cambia eccetera eccetera speriamo in un miracolo oppure vi lasciate questa storia alle spalle e state matematicamente meglio ragazzi ve lo garantisco state molto 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 meglio vi liberate di un peso forse i primi giorni forse i primi giorni state male dopodichè ve lo prometto provateci provateci ve lo prometto io se poi non è così scrivetemi vi garantisco che poi vi sentite molto 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 meglio per poi passare ad una relazione sana e sapete perché vi dico che quando si chiude una relazione del genere poi inizia inevitabilmente la prossima relazione sarà una relazione sana sarà una relazione positiva che vi renderà felici perché se avete la forza e il coraggio di chiudere una relazione tale non accetterete mai di nuovo di stare in una relazione del genere perché se una persona come il vostro ex vi si avvicinerà voi sarete bravissime a quel punto a vedere i cartelli i segnali d'allarme ci sarà un campanello nella vostra testa che vi dirà ah ma questi sono atteggiamenti simili però questo non va bene questo non va bene sarete le prime a scappare da una relazione del genere ve lo prometto ve lo garantisco se riuscite ad uscirne da una relazione del genere sarete le prime a non accettarla nuovamente è per questo che molti quando escono da una relazione così negativa così triste eccetera poi magari trovano la persona della loro vita perché tutte le relazioni che magari hanno provato nel frattempo tutte le tutte le persone che gli si sono avvicinate sapevano sapevano subito se allontanarle oppure no appunto perché questa cosa l'avevano già sperimentata e non volevano ed è successo anche a me ho sperimentato talmente tanta tristezza tanto dolore pianti eccetera che quando sono riuscita ad uscire da una relazione del genere sicuramente non mi ci sarei mai e poi mai rifiondata dentro una relazione simile quindi ve lo posso garantire diventate molto più vi difendete molto molto meglio e se avete ancora qualche dubbio pensateci un attimo nell'ultimo mese nelle ultime settimane quante giornate felici avete passato con questa persona o anche anche perché in realtà quando si sta in una relazione felice si è felici anche quando la persona non è presente perché non avete dubbi non avete incertezze siete contenti questa è una relazione sana una relazione positiva anche quando non c'è Tomas io non ho dubbi non ho paure sono tranquillissima sono felice sono contenta e quindi pensate un attimo soffermatevi sul fatto nell'ultimo periodo quante giornate positive avete avuto tenete un diario e scrivetevi tutte le giornate negative provateci per una settimana provateci per un mese due settimane vedete un attimino voi e alla fine di questo periodo alla fine del mese controllate quanti giorni negativi sono stati e pensate che magari il prossimo mese sarà uguale il mese dopo sarà uguale quanto tempo della vostra vita volete buttare certo non voglio dire che tutte le relazioni negative tutte le relazioni finite siano state una perdita di tempo siano state degli sbagli perché anche quelle ti fanno crescere e io sono profondamente grata anche a chi mi ha fatto soffrire nella vita perché sono diventata una roccia diventi talmente forte ad un certo punto perché sei tu che ti difendi e ci sono arrivata 30 anni io a questo ragazze però vi voglio solo far capire che nel momento in cui ti vuoi bene non permetti a nessuno di farti del male non permetti più a nessuno ti allontani subito quando vedi che qualcosa non va quando qualcuno ti tratta male quando si comporta male quando ti senti triste quando qualcuno ti fa stare male ti fa sentire giù ti fa sentire sbagliata ti fa sentire non adatta ti fa sentire male sei la prima ad allontanarti e questo discorso ve l'ho fatto perché molto spesso sembra che se siamo amati se ci sentiamo amati ci sentiamo bene ci sentiamo giusti ci sentiamo ci sentiamo importanti ma in realtà dovete capire che dovete sentirvi importanti dovete sentirvi dovete sentirvi superwoman ok anche se siete da sole perché solo in quel momento quando imparate a stare bene da sole potete mettervi in una relazione positiva in una relazione che vi dà qualcosa quando due persone che stanno bene da sole si incontrano può nascere qualcosa di positivo altrimenti è quasi sempre una relazione a senso unico è una relazione non sana non sana per quanto per quanto mi riguarda secondo me è una cosa che mi sono di cui mi sono resa conto con il tempo è che quando lasciamo una persona con cui non stavamo bene non è la perdita di quella persona che ci fa stare male è la perdita della persona che noi credevamo che fosse non so se mi sono spiegata bene tendiamo ad idealizzare talmente tanto le persone che molto spesso ci ritroviamo in una relazione con una persona che noi vorremmo fosse come pensiamo noi vorremmo fosse la persona ideale ma magari non lo è quindi se quindi dovete trovare il coraggio di e io ripeto sto parlando solo di relazioni in cui si soffre relazioni a senso unico in cui c'è una persona che abusa e una persona che soffre ok dovete imparare ad uscire da questo genere di relazione e a non guardarvi indietro perché molto spesso l'errore che si tende a fare ed è un errore che io ho quasi fatto più volte e è tornare sui propri passi o almeno quasi tornare sui propri passi pensando che perché ci spaventa questa nuova vita che abbiamo davanti vi ripeto per l'ennesima volta proprio per per esperienza non dovete avere paura di questa vita che vi aspetta perché è una cosa sarà sarà il momento più bello della vostra vita vi ritroverete da sole con un bellissimo tramonto con il sole che splende o ad ascoltare il rumore della pioggia in estate e saprete di essere libere e saprete che nessuno vi potrà far mai più stare male perché ricordatevi che siete sempre sempre voi a deciderlo siete voi a permettere agli altri di farvi stare male e di trattarvi male se siete in una relazione so che è brutto da dire è duro sentirselo dire ma è vero se siete in una relazione in una relazione con una persona che vi fa stare male non parlo di abusi fisici purtroppo lì ci sono molte altre complicazioni ma se state in una relazione con qualcuno che abusa psicologicamente di voi e vi offende e vi fa sentire una nullità e vi fa stare male e vi tradisce e voi continuate a stare in una relazione del genere è brutto da dire ma la colpa è anche vostra perché siete voi ad accettare tutto ciò se non lo accettaste ve ne sareste già andate giusto certo non è meglio tardi che mai si può sempre uscire da una relazione del genere ricordatevi anche altra cosa che mi viene detta molto spesso e altro errore che ho fatto anch'io nella mia vita purtroppo è pensare ma con questa persona ci sto già da tre anni ma con questa persona ci sto già da cinque anni ma con questa persona ci sto già e poi diventano sette e poi diventano dieci e poi diventano quindici non vorrete certo ritrovarvi in una relazione dopo vent'anni e dopo che vi avete passato tutta la vostra gioventù con questa persona a dire ma mi dispiace buttare via tre anni che poi però diventano cinque dieci quindici quindi è sempre meglio buttare via tre anni piuttosto che quattro è sempre meglio buttarne via otto piuttosto che nove è sempre meglio buttarne via dieci piuttosto che dodici è sempre meglio buttarne via venti piuttosto che trenta giusto riuscite a capire quello che vi voglio dire chi se ne frega quanto tempo è passato chi se ne frega come sarà dopo nella vita cercate sempre e questo è un consiglio che anche darei a me stessa se potessi tornare indietro nella vita cercate sempre di non pensare al passato e di non farvi problemi per il futuro non pensate al passato non fatevi spaventare dal futuro pensate al momento presente e se siete in una relazione che nel momento presente vi fa stare male dovete andarvene ragazze questo è il consiglio più grande che io possa dare so che questa è una decisione che si deve prendere da soli so che io spero che con questo mio video tante di voi si rendano conto ed escano da questo genere di relazione anche perché vi devo dire la verità per per mi sembra diceva sempre che mi ama io no non è vero invece si è come se è vero quelli che mi fanno stare male quelli che esercitano questo potere di questo tira e molla con voi io ti lascio perché poi tu mi preghi di rimanere e tu piangi quindi io poi sono ancora più forte queste persone è questo che fanno alla fine molto spesso non sempre molto spesso succede è una cosa che ho imparato per esperienza qualsiasi fidanzato ragazzo sia ok al 90% delle volte se lo mollate diventa un cagnolino vi prega in mani giunte di restare e lì sarete voi a dire no grazie trovati qualcuno che queste cose le accetti trovati qualcuno che questi tuoi comportamenti le accetti io non li accetto io mi voglio bene e queste cose le ho accettate in passato ho sbagliato non capivo adesso ho capito adesso non le accetto più un altro grosso errore che si può fare è giustificare l'altra persona so bene che cosa succede so bene come in questi casi nel senso che tu sei innamorata di quella persona tu sei innamorato e quindi tendi a giustificare i comportamenti dicendo trovando gli scuse dici cavolo però anch'io non sono una persona perfetta anch'io sbaglio anch'io devo aver fatto qualcosa per rinescare un comportamento del genere qualcosa avrò pur fatto sarà un periodo passerà eccetera eccetera ma non c'è nulla di più sbagliato perché sì certo tutti sbagliano è chiaro però se si parla di abusi non cambierà mai la situazione non è un periodo non è una cosa che passerà è una cosa che fa parte di quella persona bisogna imparare a capire che le persone le persone non cambiano non cambiano i loro atteggiamenti e non si va in meglio al 99% dei casi si va in peggio perché più si fa capire al proprio partner che noi accettiamo questo genere di comportamenti più facciamo capire al nostro partner che noi nonostante gli abusi continuiamo a starci in questa relazione più il partner saprà che la prossima volta può fare un pochino di più un pochino di più un pochino di più un pochino di più e ci si ritrova dopo anni a sopportare delle cose per le quali ci chiediamo ma come faccio io ad essere arrivato a questo punto è da sopportare tutto questo come si fa io purtroppo per non entrare nel merito di relazioni passate non posso per rispetto appunto non posso entrare nel merito però ti ritrovi davvero a dire cavolo ma io come posso essere arrivata al punto di accettare tutto questo cioè com'è successo questo succede così poco a poco piano piano i manipolatori le persone che sanno bene come sfruttare i sentimenti degli altri a proprio favore sanno che devono spingersi sempre un po' oltre e li vedono se voi reagite e se voi non reagite irrimediabilmente la cosa continua e vi ritrovate ad avere 55 anni per dire adesso ovviamente ti dico cosa è caso però vi ritrovate ad avere 55 anni tre bambini un marito che vi tratta malissimo e vi ritrovate a piangere ogni sera ok non voglio che nessuna delle mie follower arrivi a questo punto se però anche questo c'è da dire se anche voi doveste ritrovarvi a 55 anni con due bambini con un marito che vi fa piangere ogni sera che vi fa piangere ogni notte che abusa di voi che vi grida le parolacce più indicibili anche lì non è troppo tardi anche lì si può abbandonare la relazione e anche lì si va soltanto a stare in meglio e chi se ne frega di quanti anni abbiamo passato meglio 30 anni che 35 ok meglio 30 che 31 meglio 40 che 45 cioè è per farvi capire meglio tardi che mai volete uscire nel 55 uscite nel 55 i figli saranno i primi a dirvi io voglio mamma che tu stia bene ok a me se non altro è capitato da piccola io i miei si sono separati quando ero piccolissima non mi ricordo nulla assolutamente però sarei la prima a dire a mia mamma o a mio papà non stai bene nella relazione esci io voglio che i miei genitori stiano bene non voglio che stiano insieme soffrendo piuttosto che stiano da soli ma siano felici giusto quindi se vi capita che vi viene sbattuto il telefono in faccia o il vostro finanzato vi molla prende e se ne va e voi siete sempre lì a pregarlo a chiamarlo a sentirlo a chiedergli di smetterlo a chiedergli di tornare eccetera eccetera provate a fare qualcosa di inaspettato provate a non richiamarlo più provate a non farvi più sentire voi poi quando capita che la persona si fa sentire quando capita che lui poi si fa sentire e vi scrive poi tornate qua sotto questo video e me lo dite e vedrete in quante siete a dire la stessa cosa che se le cose cambiano e la ruota gira e il meccanismo si inceppa e non va più come lui si aspetta ovviamente può essere anche la donna a non comportarsi bene non voglio dire di no è che molto spesso mi viene detto da ragazze quindi vado al femminile per questo lo ripeto però provate un attimino ad inceppare il meccanismo provate un attimino a tenere voi il coltello dalla parte del manico e vediamo che cosa succede e vi dirò che molto probabilmente quando questa persona tornerà e vi chiederà scusa e vi dispiacerà tantissimo forse potrete dare una seconda possibilità ma poi quando risuccederà vi stuferete giusto quindi cercate di capire che chi si comporta così tutto questo discorso grosso sostanzialmente ragazze per dirvi che chi si comporta così non vi vuole bene potete è difficile sentirselo dire è brutto sentirselo dire io ho dovuto capirlo da sola chi vi tratta così si potete dire che vi vuole bene a modo suo ma è un modo molto malato di voler bene volete davvero passare la vita volete davvero restare per sempre con una persona del genere anche se provate qualcosa per lui i sentimenti passano se lo lasciate vi garantisco che il sentimento vi passa perché molto spesso anzi io sono convinta che non secondo me non si può amare una persona che ti tratta così forse puoi esserci affezionata puoi puoi averlo amato ma secondo me non si può amare una persona che ti tratta così e se veramente sei innamorata di una persona che ti tratta così in ogni caso devi essere più innamorata di te stessa che di lui per non permettergli di trattarti così e se non lo capisce l'unica cosa da fare è uscire da questa relazione ragazzi mi dispiace molto quando sento che mi dite quando vedo messaggi oppure commenti mi scrivete dicendo mi sento così debole mi sento così oppure quando mi dite io non lavoro quindi lui anche economicamente mi ha in pugno perché io non posso permettermi di andare via non posso permettermi un appartamento ragazze cercate di non affidarvi economicamente materialmente a nessuno cercate sempre 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 di essere indipendenti io ovviamente non giudico chi sta a casa perché magari il marito lavora eccetera ma si parla di relazioni consolidate cercate di se non è la persona con cui siete sicure che volete stare per sempre e non siete in una relazione felice al 100% rimanete indipendenti economicamente ma non solo economicamente rimanete indipendenti in tutto per tutto ok non lasciate che la vostra vita sia in pugno a qualcun altro cercate di girarlo questo meccanismo se vi viene detto sempre dal vostro fidanzato dal vostro ragazzo basta mi sono stufato voglio uscire da questa relazione so che è difficilissimo ma vi prego provate provate a dirgli va bene sono d'accordo ok perché tante volte ragazze è un tipo di abuso quello di minacciare costantemente l'altro di lasciarlo e provate a dire per una volta va bene ok non succede niente tranquille potete sentirlo quando volete potete se se è questo che avete paura di non sentirlo più potete sentirlo non vi preoccupate si farà vivo ma provate un attimino a dire va bene ok provate ad essere voi quelle che dicono basta sono stufa mi sono stufata perché succedono cose molto interessanti e molto interessanti se siete forti abbastanza da comportarvi così mi sono resa conto nella vita che ci sono persone forti da subito tante mie amiche già da quando eravamo più più piccoline erano molto forti sapevano moltissimo sapevano molto bene quello che volevano e sapevano benissimo che cosa erano disposte ad accettare che cosa erano e non erano disposte ad accettare lasciare un ragazzo per loro non era un problema se quelle persone non si comportavano bene con loro voltavano pagina e questo e quanto e io ho sempre ammirato molto le mie amiche le ragazze così forti e le ho sempre invidiate tanto non si invidiano le persone solo per le cose materiali si possono invidiare anche per questo genere di cose perché c'è chi è più forte di noi e non è niente di cui ci si debba vergognare semplicemente forse a chi non è così forte da subito servono serve qualche come dire serve qualche brutta esperienza tra virgolette in modo da diventare forti a me è successo così adesso posso dire di essere forte come le mie amiche ai tempi quando loro già lo erano io purtroppo ho dovuto attraversare storie che mi hanno fatto stare tanto tanto male ma vi ripeto se io ero la persona più insicura stavo male in una maniera indescrivibile vi ripeto piangevo costantemente spregavo e supplicavo di non lasciarmi e avevo gli occhi talmente gonfi che non riuscivo ad aprirli e passavo le ore con l'inchiaccio in modo che si gonfiassero eppure continuavo a restare con quella persona e poi mi sono resa conto che l'unica cosa da fare ragazze chiedete aiuto alla vostra famiglia ai vostri amici ma dovete essere voi a rendervi conto che dovete essere forti e troncare per poi stare meglio l'unica cosa che potete fare per stare meglio è uscire da questa relazione e mollarlo e lasciarlo e mandarlo a quel paese come volete che ve lo dica così è no gli abusi non passano no non non cambiano gli atteggiamenti potete però cambiare voi potete capire che non è più il caso di subire quello che state subendo e che è arrivata proprio l'ora di stare bene di stare da sole perché fidatevi che da sole si sta molto molto meglio piuttosto che in un rapporto del genere ve lo garantisco io ve lo prometto un'altra cosa che vorrei chiedervi in questo video perché so che parlarne so che noi ragazze possiamo essere anche molto capirci tra di noi non mi piace quando si dice delle donne che sono invidiose che si scannano l'un l'altra non è vero possiamo essere grandi amiche e grandi consigliere quindi vorrei invitarvi se avete avuto questo genere di problema se vi riconoscete in qualcosa di quello che ho detto se state passando una situazione del genere se ci siete passate in passato scrivetelo nei commenti aiutate chi magari ha bisogno perché anche una parola può aiutare tanto tre commenti possono aiutare tanto quindi scrivete nei commenti parliamo tra di noi di queste cose diamo consigli a chi sta passando qualcosa che magari abbiamo passato noi diciamo quello che avremmo voluto sentirci dire noi quindi voglio che sotto questo video ci siano tanti commenti di ragazze che si aiutano che si consigliano che si danno una mano perché ricordiamoci che l'unione fa la forza quindi ragazze ma anche ragazzi magari ho aiutato anche voi spero di avervi di essere riuscita ad aiutarvi so che sono solo parole però se qualcosa risuona nel vostro orecchio e vi vi siete un po' immedesimati in quello che ho detto vi siete riconosciuti nelle mie parole cercatevi prego di pensare a voi stesse cercate di dare priorità a voi stesse e non a qualcun altro dovete imparare a volervi bene e se qualcuno non vi vuole bene cercate di volervi bene voi e mandate a quel paese chi vi fa stare male ragazze bisogna imparare nella vita a mandare a quel paese chi ci fa stare male io ho passato anni a chiedermi ma perché questa persona si comporta così ma che pro ma perché ma che cosa ci guadagna se si litiga sempre ma perché e alla fine potete cercare tutti però il perché del mondo però non si arriva mai a una conclusione non si arriva mai a un perché a una risposta vera c'è gente che è cattiva c'è gente che lo fa perché ha problemi suoi c'è gente che lo fa per sentirsi meglio c'è gente che lo fa perché manco loro stanno bene questo controllare gli altri in un modo che hanno per sentirsi importanti ma alla fine dei conti ma chi se ne frega del perché se vi fa stare male quella è la porta ok quindi sì questo è quanto ogni volta che faccio questi video spero di essermi spiegata voglio sempre dirvi tante cose poi alla fine non riesco mai a spiegarmi come vorrei vorrei potervi raccontare delle mie storie passate più nel dettaglio ma purtroppo capitemi non posso farlo però non posso entrare ovviamente non posso entrare nel merito ma spero si sia capito quello che voglio dirvi comunque anche se non si parla di una relazione se state male cercate comunque di uscire non solo da fidanzati da relazioni con fidanzati o ragazzi cercate di uscire da qualunque tipo di di rapporto che comunque vi fa stare male vi fa sentire sbagliati vi fa sentire non a livello vi fa sentire non abbastanza ok voi siete tutte voi siete perfette non non accettate nessun'altra nessuna non accettate nessuno che non vi fa sentire perfette perché vuol dire che non è la persona adatta a voi ok vi prego di trovare la forza so che si tende a cercare la forza negli altri ed è sempre giusto e bisogna anzi parlarne se state in una situazione del genere sempre aiuta sempre tantissimo parlarne con le amiche con gli amici con i genitori con un familiare aiuta sempre tantissimo ed è la cosa che vi consiglio di più però la forza per uscire da queste situazioni da queste relazioni ce l'avete dentro di voi e forse siete in dubbio non sapete se la forza ce l'avete o no vi garantisco che ce l'avete io sono convinta che nella vita tutti gli ostacoli che che ci si presentano significa che noi abbiamo la forza per superarli significa che da questi ostacoli dobbiamo imparare qualcosa e significa che abbiamo che abbiamo che riusciamo a sopportarli quindi cercate di cercate di trovare la forza che sta dentro di voi e tiratela fuori e spaccate tutto e e non abbiate paura di quello che succede dopo ci pensarete dopo ok e se anche starete male non starete mai peggio della relazione in cui state ok anche perché se ci pensate in questa relazione state male sempre uguale anzi va sempre in peggio invece se voi uscite da una relazione del genere magari all'inizio state male magari state subito da dio a me è successo così subito e sono stata benissimo e non mi sembrava vero magari state subito da dio però se anche non dovesse essere così e state un po' male ma per il giorno dopo un po' meglio e poi il giorno dopo un po' meglio e poi è sempre meglio fino a quando state bene ragazze non dimenticatevi che cosa vuol dire stare bene essere felici sorridere ogni giorno e non avere preoccupazioni ok non voglio che stiate male mia femmini io vi voglio bene quando vedo questi commenti vorrei poter essere lì con voi so che anzi so perché me lo dite non voglio essere io so che io vi aiuto con le mie vie no mi viene detto spesso mi viene detto che vi aiuto in momenti difficili anche uscire da da queste relazioni anche quando state uscendo da queste relazioni vi aiuta vi svaga un po' vi svia a guardare i miei video quindi mi fa molto molto piacere ma spero anche tanto che i miei consigli da sorella maggiore possono aiutarvi perché fidatevi di me fidatevi di me ok non abbiate paura del futuro mai e non pensate al passato perché il futuro ed il passato non esistono esiste solo il momento in cui siamo adesso ok quindi scrivetemi tutto nei commenti mi raccomando voglio che vi aiutiate tra di voi voglio che ci sia una un girl power nei commenti e voglio che che si veda che la solidarietà femminile esiste e come perché io so che esiste quindi questo è quanto mi sto emozionando a filmare questo video perché raffiorano tutti ricordi e tante cose che magari non sono tanto belle che non vi preoccupate niente di grave però ci sono passate anche io quindi questo è quanto vi capisco non vi sentite sbagliate non vi sentite meno di nessuno altro non siete siamo tutti uguali a questo mondo non siete meno di nessuno né più né meno siamo tutti uguali quindi vi mando un bacio enorme e vi voglio bene bacio ciao a domani